Siamo ad Ofena, nel centro abitato. Nella scarpata alle nostre spalle, coperto dalla vegetazione, è stato ritrovato ieri sera il corpo di Emiliano Palmeri, il giovane allevatore originario di Castel del Monte che, come si ricorderà, un mese fa era stato ritrovato in un uliveto della zona ferito da un'arma, una pistola di quelle che si utilizzano per stordire gli animali prima della macellazione. Questa mattina a Ofena regnano silenzio e sgomento, ha avuto il peggiore epilogo, la scomparsa ieri dell'allevatore 28enne di Castel del Monte, Emiliano Palmeri, che aveva fatto perdere in mattinata ad Ofena le sue tracce. Dopo una giornata intensa di ricerche e speranze, il corpo senza vita è stato trovato in un posto non lontano dalla casa, impiccato e coperto dalla vegetazione. L'aria è inaccessibile, si tratta di una scarpata a pochi passi davvero dall'abitazione, sotto la strada principale. Un giallo nel giallo perché l'allevatore, un mese fa circa, era stato trovato in un uliveto del paese con una ferita alla testa provocata da una pistola battibuoi. Il giovane era proprietario di un allevamento di cavalli sulla piana di campo operatore. Si era allontanato ieri mattina dopo aver dato da mangiare a un puledrino fuori casa a Via Roma con la fidanzata. Poi ha fatto perdere le tracce, la ragazza non riuscì a andare a tracciarlo, ha allertato le ricerche. Il giovane era stato da poco dimesso dall'ospedale dopo un delicato intervento chirurgico alla testa. A condurre le ricerche vigili del fuoco dell'Aquila e reparti specializzati, la famiglia è molto nota, il papa Marcello e l'ex vicesindaco di Ufena. L'autopsia chiarirà molti dubbi. Quello che lascia sconvolta tutta la comunità è proprio la giovanità del ragazzo, un ragazzo che è comunque socievole e solare all'occhio di tutti. Effettivamente nulla da dire nel senso che dopo una giornata di ricerche purtroppo è il triste epilogo della serata e ci ha portato a questo. Lui era un ragazzo molto molto socievole, aveva la sua comitiva di amici, comunque si dedicava spesso al lavoro e tanto al lavoro, quindi dedicava il massimo delle sue ore al lavoro e il poco tempo che rimaneva per quello che era. Ecco il pranzetto, la cena con gli amici, però comunque ben voluto in paese, soprattutto dai suoi coetanei e da chi in qualche modo lo viveva giornalmente. Il nucleo investigativo dei carabinieri diretto dal Maggiore Edoardo Comanda ha eseguito rilievi. In procura già c'era un fascicolo aperto per tentato omicidio con un iscritto sul registro degli indagati, un commerciante di Castel del Monte accusato dalla stessa vittima durante l'interrogatorio, anche se l'alibi dello stesso era considerato quasi di ferro. I dubbi sono tanti. Dopo il ferimento di Palmeri, due dei suoi cavalli erano stati trovati morti per sospetto avvelenamento. Le piste battute sono diverse. Potrebbe essersi tolto la vita o potrebbe essere stato simulato in suicidio. La storia ha contorni strani. I carabinieri stanno ascoltando quindi amici e familiari per capire se Palmeri fosse minacciato da qualcuno o si fosse confidato con qualcuno. In molti punta il dito su quella che viene definita la mafia dei pascoli. La famiglia dell'allevatore ieri è stata colpita da un altro lutto, la morte del fratello e della madre. Dei vicini di casa spiegano a Reteotto di essere sconvolti. Era un ragazzo pieno di vita e progetti. Nessuno si sbilancia, ma anche la storia dei cavalli morti potrebbe aver avuto i contorni dell'avvertimento. Del resto, del fenomeno della mafia dei pascoli in Abruzzo, si parla da tanto. Ci sono inchieste interdittive della prefettura.